La Lega ha colto la sfida di una candidatura certamente innovativa, avendo intercettato la domanda sempre più alta proveniente dalla gente di voglia di normalità, a partire dalle tasse, dalla sicurezza, dalla sanità, dai trasporti, dalle politiche sul lavoro che devono puntare sempre di più alla piena occupazione, dal controllo ferreo per quanto riguarda l'immigrazione clandestina. Quindi su questa linea politica la Lega è chiaramente disposta a confrontarsi con tutti nell'area, innanzitutto nell'area di centrodestra, e avendo recepito dopo le politiche il chiaro messaggio di aver acquisito una leadership di area e ha così la responsabilità per prima di offrire la sua linea programmatica che è quella che è stata premiata dal risultato delle urne del 4 marzo. Grazie. Grazie. Grazie.